Tramonto Cubano, ben trovati amici su Economia Italia da parte di Pellegrini Fabrizio, quest'oggi siamo qui per parlare dell'isola caribica con il professore Loriz Danatta, scrittore, giornalista nonché professore all'Università di Bologna di storia dell'America Latina. Ho rubato il titolo Tramonto Cubano, ho un suo bellissimo articolo scritto sul foglio uscito qualche giorno fa. Allora Loriz, cos'è successo a Cuba per portare in strada così tante persone dopo così tanto tempo? Cosa ha fatto esarcevare la protesta nelle strade cubane? Intanto grazie per il riferimento al mio articolo sul foglio. È sempre difficile, come dire, dire che cosa a un certo punto accade in un paese dove sollevarsi contro l'ordine costituito è più che rischioso e spesso è anche inutile. Stiamo parlando di un ordine costituito da oltre 60 anni che dispone di tutte le risorse del potere e da cui dipende la vita di ogni singolo individuo per tutto, per il cibo, per l'educazione, per la salute, dal momento che non ci sono alternative al potere capillare dello Stato e delle sue ramificazioni sul territorio, cioè le organizzazioni di massa. Quindi è molto difficile capire che cosa accade ad un certo punto. Di solito, e penso che questo caso non faccia eccezione, si accumulano, diciamo così, delle condizioni di tipo strutturale di più lungo periodo e delle condizioni più immediate. Cioè, come dire, non è che divampa un incendio se io butto un cerino, una cicca per terra, ma se lì per terra ci sono delle stoppie secche, lasciate lì, è più facile che prenda a fuoco tutto quanto. Ora, sicuramente c'è una stanchezza, una stanchezza che viene da lontanissimo di un sistema che è fallimentare sul piano economico, sullo stesso piano sociale che pure tante volte viene decantato, la mancanza di libertà. Questo è un problema di lunghissimo periodo, infatti non è la prima rivolta, per carità. Però ci sono degli elementi nuovi. Gli elementi nuovi sono ovviamente la pandemia. La pandemia fa male a tutti e quindi ovviamente fa male anche ai cubani e al regime cubano dove non è stata affrontata bene, per nulla. E in questi giorni, tra l'altro, assistiamo veramente a uno dei momenti più delicati della diffusione della pandemia sull'isola. Poi è venuta a mancare la valvola di sfogo, solitamente come il regime cubano risolveva le sue grandi crisi, scaricandole sugli Stati Uniti. Perché i cubani che si sollevavano, ciò che più desideravano era andarsene, fuggire, lasciare il paese purché ovunque potessero andare. E infatti ogni decennio della storia della diffusione cubana ha conosciuto almeno una grande crisi migratore. E poi ci sono le tecnologie moderne, le comunicazioni moderne. Oggi mantenere il monopolio dell'informazione come ha sempre mantenuto il regime e quindi in qualche modo imporre la propria catechesi, la propria visione del mondo è sempre più difficile. Per quanto ostacolate ci sono le reti sociali, i cubani sono in contatto con il mondo e poi ci sono 3 milioni di cubani che vivono in giro per il mondo. E che tra l'altro con le loro rimesse economiche mandano qualcosa come il 6% del prodotto cubano. E quindi i cubani iniziano a sapere come funziona fuori dall'isola, sanno che quello che gli viene descritto come il paradiso è molto più simile all'inferno che al paradiso. Quindi quando si mettono insieme tutte queste cose ci si aggiunge come ciliegine alla riforma monetaria che è stata fatta all'inizio dell'anno che era una riforma in qualche modo che il regime ha dovuto assumere perché tale è l'improduttività del suo sistema economico per cui non poteva praticamente fare altrimenti ma questo ha causato un aumento terrificante dei prezzi e delle disuguaglianze nel paese. Quando mettiamo insieme tutto questo scuotiamo un po' il sacchetto come si dice e cosa accade? Che la gente inizia a perdere paura. Ecco questo forse è veramente l'ingrediente. i giovani, soprattutto ai giovani cubani. Questa storia della rivoluzione, la liturgia comunista, l'immagine del cielo, le assemblee del lavoro eccetera eccetera risultano come quando ero ragazzino io risultavano a noi il catechismo della chiesa cattolica, qualcosa di vecchio, di ripetuto che non aveva nessun contatto con la realtà e quindi non hanno più paura. E a mani nude sono scesi in piazza. Ecco io la interpreto così. Sì ricordiamo che a Cuba oltretutto il traffico dati sugli smartphone mi sembra legale dal 2018 quindi da poco tempo. Inoltre come raccontavi è fondamentale anche il fatto che sia venuto a mancare la valvola di sfogo perché con gli accordi tra Obama e Castro e Raul adesso gli esuli cubani che riescono a attraversare il braccio di mare che si stende tra la Florida e Cuba viene riportato indietro mentre prima venivano accolti come rifugiati politici e si parla ad esempio mi sembra nel 1980 di oltre 125 mila persone quindi è una valvola di sfogo molto importante. Dal punto di vista economico si parla tanto anche dell'embargo americano. Che tipo di effetto reale ha l'embargo americano sull'economia cubana? È davvero colpa dell'embargo americano se l'economia cubana è così in difficoltà? Ma no nessuno che studi Cuba gli passa nemmeno per l'anticamera del cervello che la colpa dei problemi economici cubani sia l'embargo. L'embargo ha avuto degli effetti soprattutto nel primo decennio della storia economica cubana ha avuto degli effetti. Però è paradossale perché l'embargo è stato voluto dal regime cubano ed è stato festeggiato, celebrato, rivendicato in mille modi. Parte della retorica ufficiale del regime è stata per decenni che libera dal dominio capitalista, libera dai capitali statunitensi, libera dalle ingerenze dell'economia statunitense, Cuba sarebbe diventato il paese più ricco al mondo. Testuale, letteralmente. Potrei dilungarmi su questo. Fidel Castro ha non ciò che Cuba avrebbe prodotto più agrumi di Israele, avrebbe prodotto più formaggio e miglior formaggio della Francia, che avrebbe prodotto di tutto, di più di tutti quanti. Fanfaronate che veramente gridano vendetta davanti alla storia. L'embargo inoltre non dimentichiamolo a che cosa fu dovuto. Perché nessuno lo dice mai. Sembra che l'embargo si sia svegliato una mattina a un presidente degli Stati Uniti. L'embargo fu dovuto al fatto che dopo la rivoluzione Cuba requisì e spropriò praticamente beni di cittadini statunitensi per una cifra che allora superava il miliardo di dollari e che è una cifra oggi astronomica e non fu possibile trovare nessuna intesa su un indenizzo perché le condizioni poste dal nuovo regime cubano erano condizioni capestro che nessuno avrebbe mai accettato. Quindi in qualche modo l'embargo fu messo in conto da Fidel Castro. Tant'è vero che in alcuni momenti della sua storia se ne pentì anche o disse di essersene pentito. Però i vantaggi propagandistici erano talmente grandi che superavano dal suo punto di vista i danni economici. Anche perché i vantaggi propagandistici andavano a lui e i danni economici andavano ai cubani. Quindi l'embargo c'entra davvero molto poco con le carenze dell'economia cubana. Anche perché primo, pochi lo sanno, comunque gli Stati Uniti sono in questo momento il terzo o il quarto partner economico di Cuba nonostante tutto perché a Cuba gli Stati Uniti vendono medicine e generi alimentari. Il fatto è che Cuba li deve pagare, li deve pagare cash e Cuba è pessima pagatrice, lo stanno tutti i suoi partner. E il secondo elemento è che comunque Cuba può commerciare con tutti gli altri paesi al mondo. Il punto è che per commerciare con gli altri paesi al mondo ovviamente bisogna avere qualcosa da scambiare e lì veniamo al punto delicato per rispondere alla tua domanda. L'economia cubana è un'economia fallimentare. Ed è un'economia fallimentare, ma figuriamoci, lo hanno capito i comunisti cinesi molto bene, lo hanno capito i comunisti vietnamiti, lo hanno capito molto bene. Finché a Cuba non c'è un minimo di incentivo a migliorare le proprie condizioni di vita, finché non c'è un minimo di garanzia giuridica per la proprietà privata, per la possibilità per l'appunto di vivere dei frutti del proprio lavoro, quell'economia lì non crescerà mai, c'è poco da fare. Il punto è, con questo chiudo, scuse se mi sono dilungato, ma è davvero molto importante questo. Il punto è che, come diceva Fidel Castro, dal suo punto di vista l'economia la capiscono anche i bambini, così diceva Fidel Castro. Ed è vero che dal suo punto di vista l'economia la capivano anche i bambini, perché dal punto di vista di Fidel Castro e del regime, quindi, l'economia è una scienza morale e basta. E cioè quello che doveva fare l'economia cubana era moralizzare la popolazione. E qual era la sua idea di morale? Era la sua idea di morale di un comunista gesuita, di un gesuita comunista. E c'era l'idea secondo cui la prosperità, il benessere, la comodità, il miglioramento delle condizioni di vita erano e sono elementi di corruzione dell'anima dell'uomo. L'uomo puro è povero. L'uomo puro è povero, come il guachiro, diceva Fidel Castro, cioè il contadino orientale di Cuba nato in un presepe come Gesù. E cioè siamo in un ambito di moralismo pauperista, dove la povertà non è un effetto casuale del modello economico, è un effetto perseguito, è un fondamento ideologico della rivoluzione. Per questo ideologicamente il comunismo di Cuba è un comunismo diverso dai comunismi asiatici, dove invece l'ideologia della prosperità alla fine si è fatto spazio. A Cuba no, a Cuba comuniste del Nuovo Testamento, dei profeti antichi è qualcosa di diverso. E per questo quel sistema non genera prosperità. Volevo raccontare un fatto riportato dal Post, un articolo dell'Economist, riguardante allevare le vacche. Cosa succede quando un allevatore vuole macellare una vacca? Non è che può decidere in base a oggi voglio la carne, macello la vacca e buonanotte. Innanzitutto deve attendere che la vacca abbia raggiunto una determinata età stabilita dal partito. Poi deve certificare che abbia prodotto ogni anno un numero di litri di latte sufficiente. Inoltre deve garantire per ogni vacca macellata ci siano tra vitelli che lo sottifiscano. Ovviamente è un sistema talmente ingessato e talmente complesso che va a rendere difficile la vita, come diceva giustamente Loris, a chiunque voglia avere un minimo di attività e di libertà economica. Sì, è un aneddoto dietro il quale tra l'altro è la punta di un iceberg che ha una storia alle spalle tragicomica, più tragica che comica anche se fa morire dal ridere. Dovete sapere che Castro ebbe una vera passione per l'allevamento bovino. Importò dal resto del mondo, da Cuba, scusate dal Canada soprattutto, dei tori che avevano vinto dei premi internazionali negli anni 60 e 70 a dei prezzi astronomici perché erano i più grandi inseminatori del mondo e creò delle fattorie modello dove si recava tutti i giorni e dove ai suoi ospiti stranieri serviva come se fosse del vino invecchiato dannata il latte delle diverse mucche. La più famosa era Ubre Blanca, che divenne celebre. A Cuba le hanno fatto, lo stesso Fidel Castro, le ha fatto fare un monumento, Ubre Blanca, perché produsse una quantità sterminata di latte in un giorno. E dette lezioni. Invitava a Cuba in conferenza internazionale i più grandi studiosi di allevamento bovino del mondo per convincere loro che Fidel Castro sapeva come funzionava. E come andò a finire? Andò a finire come era facilmente prevedibile che andasse e cioè cercò di acclimatare a Cuba in un clima tropicale delle specie bovine che a Cuba non potevano vivere, mentre lo zebu, la tradizionale vacca cubana, che è una vacca tropicale che da poco latte, venne sostanzialmente abbandonata. Fu un esperimento, uno dei tanti di Fidel Castro, che per alcuni anni si innamorava di questi esperimenti e poi quando vedeva che falliva non li abbandonava e dava la colpa a qualcun altro. Fu uno dei tanti esperimenti che costò un occhio della testa, che ha lasciato un monumento e la celebre ubre blanca e che ha veramente decimato, più che decimato, l'allevamento cubano che prima della rivoluzione era ragionevolmente prospero. E visto che hai citato l'esempio del post, almeno oggi, visto che i tempi sono cambiati, giustamente tu hai detto questo sistema è talmente ingessato che non produce nulla, che non dà incentivi al miglioramento. Negli anni 60 e 70 ci sono stati cubani che sono stati fucilati o incarcerati per decine d'anni perché uccidevano la loro vacca, perché la toglievano allo Stato perché volevano nutrirsi loro della mucca che avevano allevato. È accaduto per anni e anni e anni e il risultato è il mestro risultato a cui ancora oggi assistiamo. Ripeto, tutto ciò ancora una volta non è casuale, è nel DNA rivoluzionario. Un altro grande vanto di Cuba e del castrismo è la sanità pubblica e l'istruzione. Cosa ci sai dire, Loris, a riguardo? Perché si è parlato molto anche dei vaccini cubani, c'è stata tanta retorica anche a questo riguardo, i 90 medici che sono venuti in Italia durante il covid ad aiutarci. Cosa mi sai dire a riguardo? Ma io lo so che uno diventa molto impopolare a dire queste cose. Partiamo dalla fine. Cosa vuoi che dica? Vengono 90 medici cubani in Italia ad aiutarci e noi diciamo grazie e ovviamente ci mancherebbe altro. Dopodiché uno guarda la geopolitica e vede quali paesi hanno ospitato questi medici e quali invece non hanno ritenuto di doverli invitare e ne viene fuori una scelta di carattere ideologico. Gran parte dei paesi europei non si sono rivolti ai medici cubani. L'Italia fece una scelta di quel genere e noi siamo grati a questi medici che sono venuti qui. Dopodiché va un po' raccontato cosa c'è dietro ai medici cubani. Allora intanto a Cuba non è che un medico è come da noi un medico e basta. Un medico come uno sportivo, come un professore o come un maestro o come un artista svolge una funzione precisa nell'ambito del regime e cioè è e deve essere un propagandista della rivoluzione. E i medici cubani lo sono stati più di tutti quanti gli altri perché Cuba doveva mostrare al mondo che per l'appunto è un regime fondato su una morale superiore e i medici andavano e vanno in giro per il mondo a salvare le popolazioni locali. Ora naturalmente questo con il tempo è diventato anche un grande business. Per intenderci oggi l'esportazione di servizi sanitari è la principale voce dopo le rimesse degli immigrati a cui facevo riferimento prima dell'economia cubana. Cosa fa Cuba? Esporta medici. Esporta medici che in patria sono scarsi. I 90 medici cubani che sono venuti da noi significavano nel frattempo che molto spesso il cittadino cubano era privo di assistenza medica o con carente assistenza medica. Questi medici cubani vanno all'estero e vengono pagati in valuta. Come abbiamo visto l'economia cubana è straordinariamente inefficiente e ha grande bisogno di valuta. vengono pagati in valuta. A questi medici personalmente, al loro lavoro, va tra il 10-15% a seconda dei casi di ciò che guadagnano. L'altro 85%, quindi anche quello che noi abbiamo pagato a questi medici, va nelle casse dello Stato direttamente. Nella maggior parte dei casi questi medici non possono andare a lavorare all'estero con la famiglia. Ora i medici cubani che sono venuti da noi sono venuti per un periodo breve, ma la maggior parte di essi in paesi africani o in altre zone dell'America Latina rimane all'estero anni, 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 anni. Non possono portare la famiglia perché il grande timore è che se ne vadano, che abbandonano il paese, che colgano l'occasione per fuggire dal paradiso cubano. Non solo, gran parte dei paesi in cui questi medici si trasferiscono per compiere il loro lavoro per conto della rivoluzione cubana e che hanno quindi una grande ricaduta di tipo propagandistica sono prima di tutto inquadrati politicamente, cioè hanno un commissario politico che controlla che essi non fuggano per l'appunto. Ma non solo questo, nella maggior parte dei paesi si devono rivalidare i loro titoli, perché la gran parte dei medici cubani non ha una preparazione sufficiente, cioè per avere delle statistiche gonfiate, enormemente gonfiate, era l'ossessione di Fidal Castro, dobbiamo essere i primi al mondo in tutto. I medici cubani, non tutti naturalmente, ci sono le eccellenze, è come se ci sono, ovviamente non tutti, hanno un tipo di preparazione che nella maggior parte degli altri paesi, soprattutto nei paesi dell'Europa occidentale, non sarebbe mai accettata per svolgere la professione e quindi devono rivalidare i titoli. Quindi dietro questa patina di meraviglia c'è qualcosa di profondamente, in realtà ingiusto e anche, come dire, arbitrario. La sanità cubana fu molto buona negli anni, più che 60 negli anni 70 e fino alla metà degli anni 80, quando per intenderci l'Unione Sovietica pagava un quarto, il 25% del prodotto nazionale cubano. Non è male come una solvenzione, se qualcuno ci pagasse il 25% del nostro PIL forse potremmo spendere anche noi abbondantemente. Bene, a quel punto la sanità cubana era una buona sanità effettivamente, dopodiché è crollata miseramente. Che cosa rimane? Rimane per l'appunto una sanità di eccellenza per chi paga in dollari o per i funzionari di partito. Chi ha amici dirigenti, chi ha famiglia di dirigenti, allora sì che accede al sistema cubano di prima fascia. Gli stranieri turisti che pagano in dollari o le grandi star che vanno a Cuba a farsi curare, sì che trovano ospedali di eccellenza, perché come ho detto la sanità cubana è diventata una gallina delle uova d'oro per un'economia straordinaria e efficiente. Ma se voi andate a Camagüey, se voi andate a Santa Clara, se voi andate a Santiago e vedete come un cubano de a pie, come si dice, un cubano della strada, accede alla sanità pubblica e scoprirete una realtà, fatevela raccontare, molto più prosaica. Intanto mancano le medicine, intanto la gente muore molto spesso perché non arriva l'ambulanza o l'ambulanza non ha la benzina per andare, i racconti di chi va in ospedale e si deve portare le lenzuola o le posate da casa sono all'ordine del giorno, le condizioni sanitarie sono pessime perché la pulizia è pessima anch'essa. Per passare davanti nelle code per un esame o un'analisi ambulatoriale di solito bisogna fare un regalino al funzionario del partito perché il medico è anche un funzionario, non c'è differenza. Quindi credetemi, non facciamoci ingannare dalla propaganda. Sono i metodi che c'erano nel fascismo, che ci sono stati in tutti i regimi totalitari, Cuba da questo punto di vista non fa assolutamente nessuna differenza. Sì, senza dubbio, direi che il filone rimane quello. Recentemente si è passati, è finita l'epopea del Castro e è arrivato al potere di Azcanel. All'inizio si pensava che potesse iniziare una riforma o comunque delle riforme che pian pianino liberassero Cuba da regime o comunque allentassero i vincoli. In particolare mi sembra che si sia anche espresso riguardo ai diritti LGBT per cercare di, che con Castro seguendo la sua dottrina cattolica erano molto repressi verso la liberalizzazione di queste cose. Cosa ne pensi di Azcanel? Non ci avevo mai pensato prima d'ora e quindi qui sta già la risposta è pensare sul nulla praticamente. Io infatti sono uno di quelli che quando fu nominato di Azcanel e ci fu tutto questo can can nel mondo dissi ma no è un uomo del regime, è un uomo grigio, cresciuto all'interno dell'apparato francamente. Poi ovvio dentro questo tipo di regimi uno non sa mai che cosa aspettarsi. Quindi al di là di Dias Canel che ripeto mi sembra un uomo grigio privo di idee, non so se l'avete mai sentito parlare, fa venire il latte alle ginocchia francamente. Dopodiché che Cuba abbia aperto a diritti di minoranze o gruppi di diverso tipo, perseguitati per anni, meglio tardi che mai. E anche dovuto al fatto che oramai il riconoscimento dei diritti di queste minoranze, per carità, è un elemento di civiltà accettato da tutti e che se Cuba non lo facesse si isolerebbe dai suoi stessi seguaci in tutta l'America Latina e nel resto del mondo perché rimarrebbe davvero orfana di tutto e di tutti. Però a Dias Canel mi sembra per l'appunto che rappresenti la continuità e fino ad ora non dà dato in effetti nessun segno di cambiamento. Piuttosto quello che uno si domanda, ma questo non lo sappiamo, o almeno io non lo so e leggendo in giro mi sembra che nessuno lo sappia effettivamente. Quello che incuriosisce è cosa succede nei pilastri del regime. I pilastri del regime sono essenzialmente due, sono la croce e la spada. La croce è il partito comunista, dico la croce perché è la chiesa e cioè la funzione del partito comunista è quella di essere un'elite, il partito comunista cubano è l'unico naturalmente partito ammesso e legittimo, è il custode dell'ortodossia. I Castro non volevano mai che diventasse un partito di massa, doveva essere un partito di elite, cioè la classe sacerdotale, quello che custodisce l'ideologia del regime, quello che dal pulpito stabilisce ciò che è ortodosso e ciò che non è ortodosso per intenderci, quindi attenzione, la mia metafora della classe sacerdotale non è per nulla casuale, di questo proprio si tratta, la croce. La croce è la spada, come nell'antica Spagna dei re cattolici per intenderci, la spada è l'esercito, Cuba è un regime militare, chi sostiene Cuba e si crede un pacifista, un libertario, non sa veramente, non ha la minima idea di che cosa sta parlando, è un regime militare. I militari controllano, a parte che sono numerosissimi nell'Assemblea Nazionale Cubana, tra i ministri, tra i sottosegretari, ma controllano oramai circa il 60% dell'economia cubana, sono davvero i padroni e sono un gruppo di famiglie, di cricche opache che davvero detengono le fila del potere, del potere economico e quindi anche del potere politico. Cosa succede nelle forze armate? Non lo sappiamo. L'unica cosa tra il buffo e il curioso, che magari sarà casuale, è che in questi ultimi giorni, dopo le proteste, sono già morti, curiosamente, cinque generali. Molti erano molto anziani, mettiamo che sia un caso che siano morti proprio adesso, però vista l'opacità, quando c'è opacità informativa corrono le voci e infatti Cuba ha una storia di voci incontrollate, antica come il regime, fin dai primi giorni, visto che l'opacità informativa è totale, però uno si domanda, se ne le forze armate sono tutti contenti di come vanno le cose? Il fatto che la popolazione è alla fame, che l'epidemia è fuori controllo, che il vaccino è l'ennesima bufala della propaganda cubana, è una cosa totalmente fatta in casa, ma d'altronde Cuba aveva promesso il vaccino contro l'AIDS, lo stiamo ancora aspettando, la cura contro il cancro e ovviamente Cuba è più indietro di altri, quindi cose che chi studia Cuba le sa a memoria e ogni volta si mette a ridere quando vede una nuova generazione che ha bocca al lamo, però la domanda è inevitabile, cioè dinanzi a questo sfacelo, a questo sfascio, davvero nel partito e nelle forze armate non sta succedendo niente? Davvero queste proteste li hanno lasciati completamente immoti? Non lo so, ripeto, non lo so e non so se la morte di questi generali significa qualcosa, mi limito a ricordare che l'ultimo grande terremoto all'interno di Cuba avvenne dentro l'esercito, quando il generale Ochoa, che era un generale medagliato, super amato dalle sue truppe, che era stato a lungo in Nicaragua, era stato a lungo in Angola, ambì in certa misura a fare il Gorbachev cubano. Fidel Castro lo mandò davanti al plotone di esecuzione, però oggi non c'è più Fidel Castro, il plotone di esecuzione è inimmaginabile, quindi guardiamo lì, guardiamo cosa succede lì, perché questo tipo di regimi non cadono da fuori, cadono da dentro, è inevitabile. Sì, perché come giustamente avevi accennato, difficilmente prima nella nostra creata introduttiva difficilmente qualcosa si muove a Cuba, cioè le proteste difficilmente possono avere qualche azione se non sensibilizzare magari l'establishment comunista su alcune problematiche. Sì, non si butta giù con le mani un regime. Poi uno può dire, ah ma in Europa dell'Est il comunismo è caduto come un castello di carte perché la gente è scesa in piazza a protestare. È scesa in piazza a protestare ed è stato fondamentale, ma se il regime è crollato è perché ormai al suo interno non esisteva più, come dire, quella compattezza che gli avrebbe consentito e che tante volte gli ha consentito in passato di rispondere a quelle proteste con la mano dura o prevenendole. Quindi le proteste sono fondamentali, ma sono fondamentali perché possono, come l'acqua dei ponti, erodere i pilastri del regime. Io suppongo che qualcosa del genere stia accadendo. È una sensazione, non ho nulla per dimostrarlo, quindi prendila come te la metto. Però non si era mai visto nulla di simile e i cambiamenti a cui facevo accendo prima, che sono cambiamenti di contesto, sono tali per cui dubito che questa volta il dentifrigio ritorni dentro al tubetto, come si dice. Rimane però il discorso che Cuba esercita un grandissimo fascino tuttora anche in Occidente. Tant'è che ho letto purtroppo delle scritte nei suoi confronti non particolarmente piacevoli all'Ateneo di Bologna. Come mai tuttora nell'intelligenza anche italiana c'è tanto fascino verso l'isla cubana e verso l'esperimento del comunismo cubano? Ma quando ero più giovane, siccome io ho un percorso, come tutti quelli della mia generazione, anch'io quando ero ragazzo, viva Cuba, viva Fidel, viva Che Guevara, viva… Poi ho studiato, ho studiato, ho studiato tanto, uno poi il mondo lo conosce, e se uno studia tanto e non cambia idea, allora vuol dire che insomma non ce n'era neanche bisogno, tutto sommato, no? Se non impara nulla, se non cambia idea, se non è disposto ad aprire la sua mente e a mettere in discussione le convinzioni che ha 20 anni e ha 80 anni pensa a quello che pensava 20, allora vuol dire che insomma… Vabbè, però proprio perché ho fatto questo percorso e perché per mestiere conosco bene l'America Latina e l'America Latina quando queste cose le conoscono, le conoscono, sanno di che cosa stiamo parlando, perché le vivono sulla loro pelle e quindi quando vedono gli intellettuali europei così affascinati con il castrismo, c'è chi si arrabbia, c'è chi scoppia ridere, no? Perché in qualche modo è come dire, fare i rivoluzionari sulla pelle degli altri, è coltivare miti, è coltivare utopie di cui non si pagano le conseguenze, no? È molto facile. Però io ho a lungo pensato che gli intellettuali europei facevano così perché non capiscono l'America Latina, perché non l'hanno studiata, perché si occupano d'altro e però l'America Latina le affascina l'interesse. No, oggi non penso più così. Non è che non sanno, non è che non capiscono, è che gli piace proprio quella cosa lì. E cioè quel tipo di regime in qualche modo solletica in tanti intellettuali è l'idea che da qualche altra parte è possibile ciò che in Europa non è più possibile. E cioè in fondo in Europa l'intellettuale cosa conta? L'intellettuale chi se lo fuma più? In Europa l'intellettuale, soprattutto l'umanista come sono io, che faccio lo storico, ha delle competenze importanti, ma le nostre società sono società straordinariamente complesse, e nessuno penserebbe che noi abbiamo la funzione che avevano i sacerdoti nelle società sacre del passato, i titolari del verbo. Perché nelle nostre società c'è lo storico come c'è lo scienziato politico, il sociologo, il filosofo, ma poi ci sono gli ingegneri, ci sono gli architetti, ci sono i medici, ci sono i politici. Insomma quando usciamo dalle nostre aule universitarie, giustamente non ci fuma nessuno. Sono società complesse e inoltre sono società oramai secolarizzate, questa è la parola chiave, secolarizzate, e cioè nessuno crede più all'utopia redentiva, al regno di Dio in terra, alla terra promessa, promessa per l'appunto dagli intellettuali. Sono grigie le nostre democrazie rappresentative? Saranno anche grigie, certo, però non sono esposte, come dire, a questa narrazione, o lo sono meno di quanto lo furono in passato, esposte a questa narrazione salvifica, per cui arriva un redentore che ci prende per la mano e conduce il popolo verso la salvezza. Non ci crediamo, crediamo nella competenza, nell'evoluzione, nel gradualismo, nel riformismo, nell'apprendimento dagli errori e nella correzione degli errori, quindi l'intellettuale è un Cristo qualsiasi. E invece ci piace pensare che ci siano parti del mondo e l'America Latina si presta, come ci piace, no? Pensare che l'America Latina è il continente della speranza, quante volte sento ancora queste bagianate, è il continente il laboratorio della politica, dove è possibile creare un mondo nuovo, un uomo nuovo. In fondo quello che ci piace o che piace agli intellettuali dell'America Latina è il fatto proprio che è così poco secolarizzata. È l'idea che lì si possa contivare un mito religioso, redentivo, e dove perciò l'intellettuale è l'emblema full regi d'ebre, è il cervello del Che Guevara. Cervello è una parolona, anche regi d'ebre, è diventato grande adulto, ci ha ripensato molto, è l'idea che lì l'intellettuale possa compiere quel ruolo che nelle nostre società secolarizzate è un po' più svolto. Quanti danni possono fare gli intellettuali? E il mio non è un discorso anti-intellettuale, perché io sono per la conoscenza, per la competenza, ma quando l'intellettuale aspira ad essere sacerdote allora sta tradendo la sua missione. Però questo penso che sia la spiegazione. Molto esaustivo, e direi che si ricollega molto con alcuni libri che ha scritto Loris, che vi consiglio di leggere se avete piacere di approfondire l'argomento, che sono Fidel Castro, l'ultimo re cattolico, e il populismo gesuita, Peron, Fidel e Bergoglio. Se avete tempo e la possibilità di leggerli, rendono più completa l'immagine che oggi, gentilmente, ci ha dato Loris, di tutta la situazione non soltanto cubana, ma di tutto l'humus culturale attorno al castrismo e alla rivoluzione cubana. Io ringrazio Loris per la sua disponibilità, per la sua competenza, e per averci dedicato il suo tempo. Grazie Loris. Grazie a te Fabrizio, davvero, è stato un piacere. E vi auguro di sentirci alla prossima puntata. Grazie e alla prossima. Grazie a te Fabrizio, davvero, è stato un piacere.